Sette chilometri di rena finissima caratterizzano la spiaggia di Cesenatico gestita turisticamente da 140 stabilimenti balneari moderni e dotati di ogni comfort per accogliere i villeggianti ospitati nelle 350 strutture alberghiere e in appartamenti privati. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie!